Abbiamo organizzato tutto questo in due secondi, mittici, mittici ragazzi feltrini. Siamo pieni di teppisti Ale oggi in giro per le strade. Sì, è la festa del teppista oggi, del terrorista. È la festa del teppista. Del terrorista che spacca tutto. È la festa di quello che non si deve lavare nelle fontane. Esatto. Di quello che non si deve sedare per terra. È la festa di chi è tollerante. La festa di chi dice che dallo spazio pubblico si ripartirà per costruire qualcosa di meglio, di sta merda che si stanno propinquando. Lo vogliamo dire a Vaccari, Ale? Signor Vaccari ci lascia vivere. Ma lasciaci vivere, lasciaci vivere. Diciamo che lo spazio pubblico deve diventare il luogo dove la gente ricomincia a trovarsi e a discutere e a partecipare in sede. Mentre l'ottica è completamente diversa. Quella sempre di segregare le persone e di frammentare la società. E approfitto, visto che l'articolo che c'era di fianco a quello su questa manifestazione era sui rifugiati della Libia, io vorrei dire che penso che tutta la gente qui, in nome della tolleranza, sia favorevole al rinnovo del permesso di soggiorno per i fratelli della Libia che non è possibile mandare a casa e far tornare nella guerra quando noi qui stiamo bene e loro non hanno niente laggiunto. Grande Ale, grazie.